Trento è diventata più grande, ha cambiato confini e si apre al futuro verso ovest. Nasce un nuovo quartiere, una Trento tecnologica nel cuore della Trento storica, dove i nuovi luoghi dello shopping e del tempo libero, gli uffici e gli appartamenti, sono costruiti e organizzati in modo razionale, con tecnologie avanzate e altissimi standard di sostenibilità. E dove abiterà anche la cultura, con il prestigioso Museo della Scienza. Vieni a conoscere il volto nuovo della città. Vieni a vedere Trento. Vieni a fare Vieni a la casa Vieni a fare Vieni a fare